Saluto il bentornato all'on. Massimo Bitonci, esponente importante della lega e sottosegretario al MEF, Ministero dell'Economia. Buongiorno, bentornato. Io voglio farle questa domanda in questo modo, reddito di cittadinanza, quota 100, tutte le altre misure che avete messo in campo, ricordando che ancora non hanno dispiegato, soprattutto le prime due, gli effetti immaginati. E però tutto quello che c'è scritto nel DEF, che abbiamo saputo, che abbiamo letto, non è la sconfessione della politica economica del governo? Rispetto alle aspettative, a quello che era stato detto, no? Con reddito, con la quota 100, che ricresceranno i consumi, si darà un impulso all'economia italiana. Logico che nel documento di economia e finanza si tiene conto di quelle che sono le previsioni economiche anche di carattere generale. C'è un documento di carattere programmatorio, quindi ho letto alcuni anche commenti delle opposizioni sul fatto che sul DEF sarebbe sparito il fondo, il FIRA, il fondo per i risparmiatori truffati. Sì, allora non confondiamo quello che è la legge di bilancio, che poi è l'atto fondamentale, dove si taglia la spesa, si tagliano le tasse, si mettono le misure importanti, che poi sono inserite nel contratto di governo. Perché ricordiamo chi ci ascolta che se uno va a guardarsi il contratto di governo e va a guardarsi anche ciò che è stato promesso durante la campagna elettorale, un po' dai due movimenti, sia la Lega e la 5 Stelle, si capisce che in questi mesi decreto dopo decreto si sta ripercorrendo e cercando di attuare quello punto per punto, quello che è il programma di governo. Dopo è logico che c'è una crisi economica, insomma è inutile che lo ricordiamo ogni volta, ogni giorno, ogni minuto, di carattere internazionale, di carattere europeo. La nostra economia ovviamente è trainata al ribasso dalla crisi anche della Germania e di altri paesi europei, quindi la situazione non è facile, però è anche vero che c'è qualche dato positivo, perché se penso all'aumento delle entrate, dell'IVA nel primo trimestre del 2019, un più 5%, forse ci fa pensare che queste previsioni in fauste, anche sulla diminuzione delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto, questo invece deve farci capire un'altra cosa, che assolutamente bisogna sterilizzare l'aumento dell'imposta del valore aggiunto per il 2020, perché sarebbe veramente una scelta contraria allo sviluppo e che si sente veramente verso una vera stagnazione. Posso fare due brevissime domande, se le chiedo due risposte altrettanto sintetiche. Salvini ancora stamattina ripete, mai pensato di alzare l'IVA per poter fare la flat tax. Mi è sembrato molto più a metà strada Giorgetti, esponente importante del suo partito, che non ha escluso una sorta di scambio tra l'aumento dell'IVA e la flat tax. Lei smentisce che ci sia in mente questo? Io stamattina ho sentito l'intervista dell'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, che è il capo di gabinetto del governo precedente, e quindi è il ministro Padova, e facevo un ragionamento sul fatto che in effetti alcune classificazioni, alcune classi dell'IVA, sono un po' così antistoriche, forse una rideterminazione di alcune classi, che questo non vuol dire aumentare l'IVA, però c'è un ragionamento che fanno altri, che non facciamo noi, però è anche vero che se guardiamo, stiamo lavorando sulle detrazioni e deduzioni, ci sono più di 500, stamattina sulle 24 ore riporta un dato direi estremamente così veritiero, che è quello che ci sono più di 500 tra detrazioni e deduzioni, quindi una stratificazione negli anni, perché ogni governo ha fatto la sua, ecco, per voler magari garantire... Però riordinarle vuol dire scontentare qualcuno, qui non ci sono dubbi, no? Però anche là ce ne sono alcune che non hanno assolutamente nessun tipo di effetto, anche di contrasto per esempio all'evasione fiscale. Poi i dati sull'evasione chiudo, anche là previsioni in faust delle opposizioni sull'evasione fiscale, dopo si scopre che l'anno scorso 10% di aumento delle verifiche, quindi delle entrate dovute all'evasione fiscale, con il primo mese di gennaio, dove grazie alla fatturazione elettronica, si sono scoperti ben 700 milioni di false compensazioni IVA, quindi se noi esplodiamo questo dato su base anno, si può capire che magari, insomma, qualcosa di più... La fattura elettronica era un...